D'accordo, ripeti questo! Ehi, bellezza, metti giù il di dietro e facciamo il picnic! Non ho intenzione di dirlo! Io sono Bergerac, amico! Ripeti quello che dico! Va bene! Ehi, bellezza, metti giù il di dietro e facciamo il picnic! Ok, lo trovo davvero strano e assurdo, ma sono troppo educata per affermarlo francamente! Ora di, ecco un po' di pane! Ecco un po' di pane! E adesso sbaciucchialo, dai! Caspita, è spaventoso! Forza, fa spazio al vero Bergerac! Madame, se il cibo è buono quanto la tua compagnia, allora mando i miei distinti saluti al cuoco! Questo è pure peggio! Dille che adori i cavalli! Alle ragazze piacciono i cavalli! Devi essere te stesso! Non il parlare delle cosce! Posso parlarle dei miei poltari? Non capisco! Ragazzi, di cosa state parlare?